Sia i visconti che i toriani disponevano nella città di Milano di interi quartieri fortificati, come era uso in tutte le città comunali nel Medioevo. Tali quartieri si identificavano in maniera netta nel tessuto urbanistico circostante, con torioni difensivi, muraglie, chiese private, sepolture vistose e spesso il controllo più o meno diretto di almeno una porta delle mura cittadine, e non erano le uniche famiglie a Milano con simili quartieri. I visconti avevano il controllo completo di tutta l'area che dalla porta romana medievale arrivava oltre l'attuale piazza Missori, grazie a un vero sistema difensivo cittadino sviluppato a partire dal Trecento da Lucchino-Visconti, a cominciare dai palazzi di proprietà della famiglia. Una via, parallela all'attuale via Rastelli, era la Contrada dei Visconti. Fu demolita negli anni Trenta per costruire il quartiere razionalista di Piazza Diaz, che ha preso il posto del quartiere storico del Bottonuto. La chiesa paleocristiana di San Giovanni in Conca, della quale si conserva ora un triste rudere, dopo le sciagurate demolizioni del dopoguerra, era di fatto diventata la cappella familiare dei Visconti. Bernabò Visconti e sua moglie, Beatrice Regina della Scala da Verona, furono deposti in un monumentale sepolcro in questa chiesa. La chiesa di San Giovanni fu poi demolita, le tombe spostate nei musei del castello e le lapidi sepolcrali dei corpi di Bernabò e di sua moglie sono oggi conservate nella controfacciata della vicina chiesa di Sant'Alessandro in Zebedia. Da Piazza Missori, attorno alla chiesa di San Giovanni in Conca, si sviluppava la Cadi Can, dimora personale di Bernabò Visconti, della moglie, delle numerose concubine e dei suoi 32 figli. Era anche il ricovero dei 5.000 cani del terribile Duca, noto per la sua crudeltà. Gli amati quadrupedi, fatti crescere nel borgo di Quarto Cagnino, da cui l'origine del toponimo, durante il giorno potevano girovagare per Milano e entrati in una casa il proprietario aveva l'obbligo di accudirli, pena l'arresto se si fossero ammalati. Un vecchio adagio milanese definisce un ragazzino pestifero e non punito can della vissa, cioè cane della viscia, epiteto derivato dai cani di Bernabò che portavano al collare lo scudo visconteo col biscione. Bernabò aveva anche il crudele hobby di dare la caccia ai condannati a morte, liberandoli nel giardino del barco e poi inseguendoli come in una vera caccia all'uomo. Il giardino era una vera e propria riserva di caccia del duca, che dall'attuale parco Sempione giungeva fino all'Ampugnano e al moderno Cutiotto. Poi, nei secoli successivi, tutta la zona divenne prettamente agricola. I torriani, per contro, vivevano nell'attuale via Manzoni. Essi avevano pieno possesso dell'area che dalla porta nuova di epoca alto-medioevale, tra via Monte Napoleone e via dei Bigli, arrivava fino nell'attuale piazza della Scala. Anche gli edifici dei torriani erano fortificati, proprio per potersi difendere o attaccare i nemici in città. I torriani disponevano anche di ampi parchi. L'attuale via Manzoni, nel tratto tra via Monte Napoleone e piazza della Scala, aveva il nome di Corsia del Giardino. Questo perché verso nord erano i loro parchi usati per la caccia. A ricordo di questo, ancora oggi, esiste il vicolo giardino, che si apre su via Manzoni. Non erano quindi solo i visconti ad amare la caccia. Sembra tuttavia che i torriani non inseguissero carcerati. Verso sud erano invece le loro abitazioni. La cacciata finale dei torriani dalla città fece diventare i visconti padroni assoluti di Milano. Essi demolirono le case dei torriani, affinché nessuno di loro potesse farvi ritorno. Le rovine rimasero visibili per decenni, a monito dei nemici dei visconti. Ancora oggi, a fianco della chiesa di San Fedele, è la via Case Rotte, la più breve di Milano, a ricordo di quegli eventi lontani di guerra civile cittadina. Ma non solo torriani o visconti. Un'altra famiglia di importanza enorme, che però non riuscì mai ad avere il controllo del comune di Milano, è la famiglia Pusterla, il cui palazzo è ancora esistente in piazza Sant'Alessandro. I Pusterla avevano il controllo di parte del quartiere, che si sviluppa lungo l'odierna via Torino fino alla porta ticinese alto medievale. I Pusterla, di origine Longobarda, erano valvassori milanesi. Grazie al mercato cittadino, da loro promosso nell'area di Sant'Alessandro in Zebedia, divennero ricchissimi, tanto che Angilberto II Pusterla, arcivescovo di Milano, donò l'altare d'oro di Sant'Ambrogio. Tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo, i Pusterla concorsero insieme ai torriani e ai visconti per la signoria di Milano. Furono anche signori di Tradate e conti di Venegono. Le loro proprietà si estendevano anche in tutta la Brianza, con oltre trenta ville nel quattordicesimo secolo. Nel Cinquecento alcuni Pusterla vissero anche nella nostra parrocchia di San Zeno, nel comune di Olgiate Molgora, disseminati tra Porchera, Borlengo e Valicelli. Il gentiluomo Alessandro Pusterla è tra i nobili che finanziavano la nascita della parrocchia nel 1585. Guarda a caso, il suo nome di battesimo, Alessandro, è lo stesso della parrocchia milanese dove i Pusterla avevano i loro palazzi. I Pusterla erano direttamente connessi alla famiglia imperiale germanica, tanto che si freggiavano del simbolo imperiale, l'aquila nera, su campo giallo, nel proprio stemma. La potenza era tale che, per antica prerogativa, essi avevano il privilegio di porgere la spada al signore di Milano durante la sua proclamazione. Francesco Pusterla, vissuto nella prima metà del quattordicesimo secolo, era considerato l'uomo più ricco della città. Sposò Margherita Visconti, da molti giudicata come la più bella donna di Milano. Data la sua bellezza, il signore di Milano Lucchino Visconti se ne invaghì, suscitando le ire del Pusterla, che fece un tentativo di cacciarlo dalla città. Lucchino però reagì, e Francesco con i figli fuggirono a Pisa. Catturati, vennero decapitati nel 1341 nel Broletto. Margherita pare sia stata poi murata viva nel castello Visconteo di Invorio, nel Novarese. Ma probabilmente la vicenda aveva anche ragioni politiche, perché i Pusterla erano diventati troppo potenti e minavano l'autorità dei Visconti. I Pusterla tuttavia non furono mai del tutto estromessi dal potere, data la loro immensa ricchezza e la fedeltà dell'area del Seprio, cioè della zona di Varese, che li appoggiava. Furono poi potenti alleati dell'Isforza. Un'altra famiglia che ebbe una sua cittadella, verosibilmente fortificata, è quella dei Baggio, famiglia da cui uscì Anselmo da Baggio, Papa Alessandro II. La cittadella dei da Baggio o Baggi occupava la zona tra Breva, Porta Comasina e il castello Sforzesco. L'attuale via Cusani era infatti anticamente chiamata la Contrada dei Baggi. Mentre tra Breva e la chiesa di San Marco vi era la Pusterla del Guercio, che prese il nome da Guercio da Baggio, nobile milanese vissuto nell'undicesimo secolo. La stessa chiesa di Santa Maria in Breva fu poi costruita sui terreni donati dai da Baggio. La cittadella fu probabilmente distrutta dall'esercito del Barbarossa e dai Comaschi nel 1162. Ma i Visconti non pensavano solo a farsi fortezze, torri, roc cittadine. Azioni Visconti, una volta reso stabile il suo potere, fece restaurare le mura milanese, chiamando niente meno che Giovanni di Balduccio, da Pisa. Inoltre fece allargare il letto del fiume Nirone e restaurò chiese e palazzi. Costruì soprattutto la chiesa di San Gottardo in corte, col bellissimo campanile di Francesco Pecorari, perché dedicata a San Gottardo e perché Azione soffriva di gotta. Sul campanile fece installare un orologio pubblico meccanico. Fu il primo orologio pubblico meccanico storicamente accertato in Italia. Le persone erano meravigliate perché l'orologio batteva un rintocco per ogni ora. Non avevano mai visto un meccanismo simile. E da allora tutti gli orologi pubblici suonano nello stesso modo. Era talmente una novità che la strada che affianca la chiesa si chiama ancora oggi Via delle Ore. Ecco che Azione si rivela come un vero principe, ormai possiamo dire rinascimentale. E infatti chiama Giotto a Milano, che affresca alcune pareti del palazzo signorile. E purtroppo nulla è rimasto delle sue opere. E proprio in San Gottardo in corte, Azioni di sconti, sarà sepolto nel 1339, in un bellissimo sarcofago proprio di Giovanni di Balduccio. Azione è poi ricordato per aver promosso nel 1336 la ricostruzione della città di Lecco e del suo castello e anche la costruzione del Ponte Vecchio, ancora oggi esistente e a lui dedicato. A Cuomo fece ristrutturare castello e cittadella difensiva. E sempre a proposito di castelli, ecco che ne costruì a Romano di Lombardia, a Voghera, a Lonato sul Garda. Appontamento al prossimo video del Bruco. Grazie. Grazie. Grazie.